Out of Time è il secondo episodio di Life is Strange, avventura sviluppata dal team francese Dontnod. Dopo le ottime premesse dell'esordio, il titolo conferma l'ispirazione generale, ammaliando i giocatori con le sue atmosfere trassognate e con una sceneggiatura sempre brillante. Out of Time riprende la storia da dove si era interrotta. Max ha appena confessato a Chloe il suo segreto, ovvero la capacità di tornare indietro nel tempo di qualche minuto. Quella che in teoria è una situazione assurda, da film di fantascienza, viene trasformata da Dontnod in qualcosa di normale, un dato sullo sfondo di un evento molto più importante. Due amiche che dopo tanti anni tornano a parlarsi, a confrontarsi, a volersi bene. La fase iniziale lascia poi spazio alla parte più rilevante della trama, in cui si torna a parlare della scomparsa di Rachel e di quello che può esserci dietro. Come nella serie TV Twin Peaks di Lynch, il cast di Life is Strange è complesso e sfaccettato. Quelli che sembrano stereotipi in realtà sono personaggi che nascondono scuri segreti e pesanti fardelli. È come se Arcadia Bay vivesse due realtà diverse. In superficie appare come una tranquilla cittadina di provincia americana, ma basta scalfire un po' questa superficie per scoprire un nido di serpi, gente crudele e spietata, capace di atti terribili. Max è la chiave per aprire questa porta oscura, l'unica speranza di salvezza per gli abitanti di Arcadia Bay. Life is Strange, come faceva intendere il primo episodio, è un titolo dove non c'è azione. In questo secondo capitolo dovrete affrontare un paio di enigmi più complessi del solito, uno in particolare che richiede anche una certa velocità, ma il cuore dell'esperienza rimangono i dialoghi e le interazioni con gli altri personaggi. In un sistema del genere il dubbio più che lecito è quanto le scelte che farete possano davvero influenzare la trama. Per fortuna lo chiariscono alcuni momenti chiave nella parabola narrativa, confermando come alcune decisioni ormai lontane possano diventare importantissime e fondamentali per un evento inaspettato nel finale della puntata. La sceneggiatura scritta dai ragazzi di Don't Know, insomma, non è solo di grande qualità, ma nasconde anche originalità ed una brillantezza molto rare nel mondo dei videogame. Ci sono almeno un paio di scelte davvero forti, con un finale sorprendente, emozionante, che vi farà sentire tutto il peso e la responsabilità di avere un potere così speciale. Tecnicamente Life is Strange non vi stupirà, ma vi colpirà con le sue inquadrature, disegnando immagini e momenti che vi rimarranno impressi nella memoria. In Out of Time vedrete nuove ambientazioni, come la discarica vicino ai binari o il ristorante in riva al mare dove lavora la madre di Chloe. Un discorso a parte ancora una volta lo meritano le musiche. I brani scelti da Don't Know sono semplicemente splendidi, ma a colpire è soprattutto il modo in cui la musica entra a far parte dell'esperienza di gioco. Se Crisalis era l'episodio pilota, quello che doveva mettere in scena ogni personaggio, Out of Time è quello che fa uno scatto in avanti, mette in moto gli ingranaggi della storia. Affascinati da un cast stupendamente costruito e da una trama che assicura diversi colpi di scena, è facile restare ammagliati. E poi nelle due protagoniste, in Max e Chloe e nella loro alchimia così speciale, che Life is Strange basa tutta la sua forza. Don't Know sta raccontando una storia splendida, con Tony Coopi, ma anche con una poesia e un'eleganza davvero fuori dal comune.